Bianca Maria Berlinguer nota come Bianca Berlinguer è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. . Si è sposata in seconde nozze con il politico Luigi Manconi. . Della principale edizione serale di questo telegiornale è stata conduttrice ininterrottamente dal 1991 al 5 agosto 2016. Ha presentato inoltre Primo Piano, rubrica di approfondimento della stessa testata giornalistica su Rai 3. . . Nel gennaio del 2008 Bianca Berlinguer è stata coinvolta in una polemica dichiarazione del presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga. Rispondendo a un intervistatore. . Cossiga ha dichiarato di averla raccomandata insieme ad altri giornalisti, Giuseppe Fiori, Federica Sciarelli, per ottenere una posizione di maggior rilievo all'interno della Rai. . . La Berlinguer ha smentito queste dichiarazioni del senatore, senza tuttavia intraprendere azioni legali nei suoi confronti. . . Il primo ottobre 2009 Bianca Berlinguer nominata direttrice del Tg3. Si insedia il 12 ottobre. . . Il 24 settembre 2010 ha vinto a Roma la prima edizione del premio di giornalismo L'Isola che c'è, riconoscimento assegnato a 10 giornalisti sardi, della carta stampata o della Rai Radio Televisione Italiana, che lavorano a Roma. . . Il 24 settembre 2011 ha vinto il premio nazionale Aghero Donna di letteratura e giornalismo, sezione giornalismo. . Da direttrice continua a condurre, dopo un intervallo di qualche mese, l'edizione serale del Tg3, nonché l'approfondimento notturno Linea Notte. . Conduce e dirige per l'ultima volta il Tg3 il 5 agosto 2016, venendo sostituita, con molte polemiche soprattutto rivolte al governo Renzi, da Luca Mazzà. . . Dalla 7 novembre 2016 conduce carta bianca su Rai 3. Bianca Berlinguer è alta circa 167 centimetri e pesa 60 chili. . Bianca Berlinguer, Roma, 9 dicembre 1959, si è sposata la prima volta con il giornalista Stefano Marroni. . . Il matrimonio viene celebrato in Campidoglio dall'allora sindaco di Roma Walter Veltroni. . Successivamente convola a nozze con il senatore Luigi Manconi, politico, sociologo e critico musicale, dal quale ha avuto nel 1998 la figlia, Giulia. . . . . . . . . .